Due persone, a volto scoperto, hanno rapinato una gioielleria in Viale Regina Margherita, Canicattì, in provincia di Agrigento. I due avrebbero minacciato con una pistola la figlia della proprietaria della gioielleria, riuscendo a impossessarsi di un pannello contenente un importante quantitativo d'oro. Secondo una prima stima, il bottino sarebbe stato quantificato in circa 60.000 euro. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivate tempestivamente tutte le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Sono attualmente in corso le ricerche dei due malviventi, con le immagini delle telecamere di sorveglianza al centro delle indagini condotte dai carabinieri della locale compagnia.